Non esiste ancora un progetto ben definito, ma nella mente dell'amministrazione comunale e dell'erettore dell'Università del Piemonte Orientale Giancarlo Avanzi, il campus universitario che dovrebbe sorgere in Viale Teresa Michel trasformerà Alessandria in una vera e propria città universitaria. Lo sostiene con orgoglio il sindaco Gianfranco Cutica di Rivigliasco, nel sempre impegnato a sostenere un dialogo e un'ampia collaborazione fra Comune e Ateneo. Avviato l'accordo per l'acquisto del terreno adiacente al Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica, un'area di oltre 20.000 m2 per cui verranno impegnati dai 40 ai 60 milioni di euro, il progetto ha avuto via libera. Grazie ad un accordo commerciale con la famiglia proprietaria dell'ex mercato ortofrutticolo, nell'area sorgeranno oltre alle aule anche alloggi per studenti, palestra, campi da gioco, magazzini, archivi e biblioteca. L'opera sarà finanziata tramite un pertenariato pubblico e privato con l'utilizzo anche di fondi europei. Il campus sarà punto di sviluppo anche per tutto il territorio, affermato il provettore Roberto Barbato. Sarà un'occasione per la città ad accogliere nella maniera giusta. Vediamo con favore quello che sarà non solo un potenziamento didattico, ma anche di ricerca e di relazioni, ha continuato Leonardo Marchese, direttore del DISIT, dipartimento che è a fianco della nuova area, dove probabilmente sorgerà anche il nuovo ospedale. Il tutto senza impattare negativamente sulla viabilità del quartiere, ha assicurato il vice sindaco Davide Buzzilanghi un progetto ambizioso con una valenza strategica in diversi ambiti.